Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. In apertura una notizia dell'ultimo ora, una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta a Cassano delle Murge. I corpi di marito e moglie, entrambi di 70 anni, erano distesi uno accanto all'altro nel giardino della loro abitazione. Al momento non sono chiare le circostanze della morte di entrambi. La scoperta è stata fatta da un figlio della coppia, allertato dal medico curante. La donna infatti prima di morire ha tentato di chiamare il medico chiedendo aiuto. Migliaia di agricoltori protestano da questa mattina a Bari per la guerra del grano, la manifestazione di Coldiretti organizzata in tutta Italia. I dettagli nel servizio. Esplode la protesta degli agricoltori pugliesi che scendono in piazza con i loro trattori a difesa del grano nazionale. Circa 5.000 agricoltori hanno partecipato alla manifestazione della Coldiretti a Bari. Partita da pane e pomodoro, la protesta si è poi spostata sul lungomare davanti alla sede della presidenza della regione. La guerra del grano evidenzia l'importanza del ruolo dell'agricoltura pugliese, principale produttrice di grano duro e allo stesso tempo maggiore importatrice dal mercato estero, come spiega Giuseppe Brillante, direttore Coldiretti Lecce. Il grano che è stato appena trebbiato, appena raccolto, è stato pagato a meno del 50% rispetto all'anno scorso, ma è stato pagato ad un prezzo che risale a 30 anni fa, il che significa che questo butta giù la cerealicoltura della Puglia, la nostra cerealicoltura che è fiore all'occhiello dei prodotti agroalimentari italiani. Le importazioni che stanno avvenendo, anche in questo momento, è veramente un delitto importare del grano che viene dall'Ucraina, del grano che viene dall'Afghanistan, del grano che viene dal Canada, mentre noi stiamo raccogliendo. E questo non è possibile, non è nemmeno corretto da un punto di vista di regolamenti comunitari. Che questo grano, quantomeno, venga portato qui, non ad azio zero come oggi. Sono stati arrestati i presunti responsabili dell'omicidio di Giovanni Battista Genchi, freddato da due colpi di pistola il 5 luglio 2014 a Carbonara. I dettagli nel servizio. Era un rovente pomeriggio di luglio, quello di due anni fa, quando il rumore sordo dei colpi di pistola ruppe il silenzio della controla nella tranquilla via Vittorio Veneto a Carbonara. Due proiettili dritti in direzione del bersaglio, Giovanni Battista Genchi, pregiudicato vicino al clan di Cosola, ferito alla testa e morto sul colpo. La raffica di proiettili aveva raggiunto di striscio anche una coppia che viaggiava a bordo di una Opel, ferendo lievelmente una donna di nazionalità albanese. Le indagini della polizia, complicate dal muro di omertà attorno all'omicidio, hanno portato gli investigatori all'arresto dei due presunti responsabili. Uno dei due è stato riconosciuto anche grazie a un tatuaggio sull'avambraccio destro. Arrestati, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, Giovanni Antonacci, di 38 anni, e Luigi Caruli, di 34, ritenuti vicini al clan di Cosola, nel quale da poco tempo la vittima era entrata a far parte, a seguito dell'alleanza stretta con il contrapposto clan Stramaglia. Movente del delitto, qualche sgarro commesso nella gestione della vendita di droga da parte di Giovanni Genchi e del suo atteggiamento molesto nei confronti della sorella di uno dei due killer. Torniamo a parlare dell'indagine di mercato per la ricerca di una nuova sede degli uffici comunali da noi più volte segnalato. Il bando a brevissimo potrebbe essere sospeso. Vediamo perché. L'indagine di mercato contestata sin dalla sua prima pubblicazione è sulla via del tramonto. A stretto giro, infatti, potrebbe essere sospeso per l'ennesima volta. Parliamo della ricerca di una nuova sede per gli uffici comunali, più volte finita sotto la lente di ingrandimento della Commissione Trasparenza a causa dei criteri richiesti, da molti, considerati troppo stringenti. Solo per citarne alcuni. Superficie lorda coperta di almeno 10.800 metri quadri, di cui 7.560 per gli uffici e 1.620 per gli archivi. Ubicazione nel territorio comunale, preferibilmente zona centrale, ben collegata e in grado di ospitare 320 persone. Accesso indipendente, impianto di riscaldamento autonomo, autorimessa con almeno 100 posti auto, parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze, adeguata illuminazione, disponibilità di sale e riunioni e conferenze. Una l'offerta di risposta, offerta che, neanche a dirlo, l'amministrazione era già pronta ad accettare. Peccato che dei criteri richiesti nel bando, l'immobile di via caduti di tutte le guerre, ex sede dell'assessorato alla sanità, ne possiede ben pochi. Per dirne una, i bagni non sono a norma e dei tre piani messi a disposizione dalla società titolare dell'immobile, solo uno, il primo, è immediatamente occupabile. Gli altri due sono infatti da ristrutturare. Ma a ben guardare, in realtà, potrebbe essere anche un'altra la ragione di questa sospensione. La IEA SPA, infatti, che nel 2008 aveva presentato offerta ad un'altra indagine di mercato per gli uffici comunali, con un immobile le cui caratteristiche rispondevano perfettamente a quanto richiesto, ha inviato tutta la documentazione alla Procura e alla Corte dei Conti, ipotizzando anche una richiesta di risarcimento. Inaugurata questa mattina in Via Melo 205 la nuova sede regionale del Movimento Idea Puglia. Hanno partecipato il Presidente, Senatore Gaetano Quaglierello, il responsabile regionale, Domila Anzillotta, Paolo Dell'Erba, componente dell'Assemblea Nazionale, Enzo Guerra, membro del coordinamento cittadino, i quadri del Movimento Sindaci e Amministratori Locali. Non esiste un provvedimento definitivo che venga presentato al Ministero. Il piano di riordino della rete ospedaliera è un work in progress attraverso il quale si determinano le scelte. Ci sono provvedimenti estivi di razionalizzazione dei reparti, assolutamente provvisorie e sovrapponibili a quelli dell'anno scorso. Quanto agli emendamenti presentati al piano, in alcuni casi sono campanilistici, in altri hanno una visione complessiva. Lo ha detto Marco Lacarra, consigliere regionale, segretario del Partito Democratico in Puglia, intervenuto sul piano di riordino ospedaliero questa mattina in Regione. In merito al piano di riordino, che dovrà essere nuovamente esaminato dal Ministero, Lacarra ha chiesto di verificare se a invarianza di spesa, una volta che questo sarà arrivato e approvato dal Ministero, possa essere integrato. Di oltre un mese fa la richiesta di Fabio Romito, consigliere d'opposizione di tutti gli estratti conto delle carte di credito dei presidenti delle partecipate. All'appello mancava la risposta della presidente dell'AMGAS SRL, Rosalba Cirillo, il servizio. Lì tempo fa aveva chiesto ai presidenti e ai direttori delle partecipate gli estratti conto delle carte aziendali. Mancava quello della presidente dell'AMGAS, ma è arrivato. In che modo? In primi si è arrivato in maniera assolutamente tardiva, perché le richieste di informazioni che io avevo fatto nei confronti di tutte le aziende da AMGAS mi sono state riscontrate 32 giorni dopo la richiesta. E già questo ritardo la dice lunga sulla capacità di amministrare di chi sostanzialmente sta gestendo le nostre aziende. Rispetto a questo, per ciò che attiene l'argomento delle carte di credito, non mi è stato possibile verificare con attenzione quale sono state le spese, perché mi è stata fornita una stampa della videata del profilo internet di quella carta. Ieri lei però ha parlato anche di sponsorizzazione in consiglio. E' certo, perché ieri noi abbiamo approvato l'assestamento di bilancio, una delibera importante, che però non può non tener conto degli sperperi delle nostre aziende. Noi l'abbiamo denunciato da due anni a questa parte, centinaia di migliaia di euro di incarichi professionali esterni, elargiti molto spesso agli stessi professionisti senza alcun merito. Ci sono tanti professionisti nella nostra città che sono in grande difficoltà e hanno gli stessi diritti dei vecchi noti e degli amici degli amici, anzi hanno molto più diritti di questi a ricevere un incarico dall'amministrazione. Questo noi fino ad ora non l'abbiamo visto. Centinaia di migliaia di euro di sponsorizzazioni. Ora io mi chiedo, se io azienda sponsorizzo un evento, e l'Amgas SRL per esempio ne ha sponsorizzati tantissimi per centinaia di migliaia di euro, io devo avere poi un riscontro da quella sponsorizzazione. Diversamente quella si chiama beneficenza. Presentata questa mattina nella sede di Legambiente la ricerca su Goletta Verde, sullo stato di salute del mare e della depurazione in Puglia. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giuseppe Spagnuolo. Sette campioni su 30 estratti dalle acque pugliesi sono inquinati. È quanto evidenzia il monitoraggio effettuato da Goletta Verde lungo il litorale pugliese tra il 18 e il 22 luglio. I risultati sono stati resi noti da Legambiente durante la conferenza stampa di presentazione della ricerca. L'analisi è stata effettuata in corrispondenza delle foci di fiumi, canali e torrenti. Sotto la lente di ingrandimento a Bari una spiaggia libera nei pressi della Fiera del Levante. Risultate entro i limiti previsti nella legge. Nella Batta, Brindisi e Foggia, le zone maggiormente inquinate. La qualità delle acque di balneazione comunque migliora rispetto al passato, pur permanendo parecchie criticità. Sul fronte della depurazione diminuiscono gli impianti pugliesi che scaricano direttamente nel sottosuolo, con rischio di inquinamento delle falde acquifere. E vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che a livello europeo vedrà condizioni tipicamente estive a latitudini mediterranei, dove però il caldo si farà sentire in maniera pesante, invece tempo molto più variabile nell'Europa centro-settentrionale. Per l'Italia sarà una giornata di bel tempo, ampie zone di sereno, vi segnalo solo qualche locale piovasco sulle Alpi orientali nel pomeriggio, ma per il resto vedete tanto sole e temperature che già raggiungono valori elevati. E infine un'occhiata al sud Italia, bella giornata estiva, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, vi segnalo solo un pochino di vento sul basso adriatico, dove il mare rimarrà localmente mosso. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio